Cari amici, i registri e i documenti contenuti negli archivi parrocchiali ci aiutano a comprendere alcune delle novità portate dalle idee nate dalla rivoluzione francese che posero fine all'antico regime della Repubblica di Genova. Il 14 giugno del 1797 si chiuse l'epoca dell'antica Repubblica aristocratica genovese e si aprì, quella breve durata circa otto anni, della Repubblica Ligure legata strettamente alla Francia. Il popolo ineggiava alla libertà e all'uguaglianza, le antiche consuetudini, i privilegi della nobiltà e del clero furono aboliti. Nel gennaio del 1798 fu eletto il primo direttorio della Repubblica, riordinata alla francese, divisa in 20 giurisdizioni e queste in 156 cantoni. Anche le parrocchie furono coinvolte da questa atmosfera e i rettori annotavano sui registi parrocchiali il 1798 quale primo anno della libertà della Liguria. I parroci si qualificavano prete cittadino, cambiò anche lo stile di scrittura. Cittadino prete e cittadino arcivescovo sostituirono nelle corrispondenze il molto reverendo come fratello o reverendissimo signore. Nel 1798 nelle lettere inviate dai parroci alla curia, prima della sottoscrizione, si scrivevano le parole salute e rispetto, mentre in precedenza si era usata comunemente la formula di vostra signoria reverendissima, umilissimo servitore. La Repubblica Ligure, per garantire continuità col passato, stabilì che ogni parrocchia formava comunità e che ogni comunità aveva la municipalità. In effetti fu la legge 111 del 1798 sull'organizzazione del potere giudiziario e di quello amministrativo a stabilire che ciascuna parrocchia formava un comune e se i cittadini del comune non raggiungevano il numero di 300 ci si doveva unire con un altro comune vicino dello stesso cantone. Per 200 anni, dal 1600 al 1797, la Liguria era stata suddivisa in 39 circoscrizioni e 602 parrocchie. All'epoca la Liguria contava circa 600.000 abitanti e Genova 89.000. La municipalità attribuita a ciascuna parrocchia cessò nel 1799 quando le giurisdizioni furono modificate a causa del proliferare delle municipalità che costituivano, si disse, una sorgente di disordini per la nazione. L'eccessiva moltiplicazione delle amministrazioni municipali aveva infatti creato problemi al potere centrale per l'imperizia dei responsabili e la Repubblica, si disse, era minacciata dai pericoli dell'anarchia. Con la legge del 1799 si stabiliva una sola municipalità per cantone e un agente municipale per ogni comune che aveva non più di mille abitanti. La nuova Repubblica aveva necessità di acquisire delle entrate nuove e quindi assunse alcuni provvedimenti come la requisizione di beni e anche appunto l'erogazione di nuove imposte. In considerazione dello Stato, delle casse e della nuova Repubblica, con la legge 64 del 1798 fu disposta la requisizione degli ori, degli argenti, delle gioie, di tutte le chiese, monasteri, conventi, oratori e opere pie che esistevano sul territorio Ligure per trasferirli nella tesoreria nazionale ad esclusione di quelli puramente necessari per l'esercizio del culto. Con un proclama diretto ai Liguri il direttorio affermò che con la requisizione la decenza del culto rimaneva comunque conservata e si versava il superfluo e questo in sostegno della libertà e in vantaggio di tutto il popolo. Un analogo provvedimento fu preso anche nei confronti della sinagoga degli ebrei perché si scrisse le leggi devono egualmente riguardare tutti i cittadini. In relazione alle nuove imposte nel febbraio del 1798 il direttorio Ligure tassò ogni famiglia in proporzione al numero delle finestre della propria casa. Questa era una tassa istituita in Francia che fu appunto esportata nella Repubblica Ligure ed era legata alla quantità d'aria e di luce che le finestre lasciavano passare e fu definita un sussidio patriottico sulle finestre che prevedeva l'esenzione per chi avesse meno di 5 finestre e stabiliva aliquote invece crescenti fino a 50 finestre con riduzioni per i paesi che avevano meno di 6.000 abitanti. Erano escluse dall'imposizione le finestre di larghezza inferiore a due palmi e mezzo e meno di tre palmi di altezza. In Liguria molte case costruite in quel periodo presentano finte finestre dipinte oppure finestre di dimensioni ridotte proprio per evitare questa nuova tassazione. Poi la tassa sui cosiddetti beni stabili si esercitò con l'obbligo di denuncia da doversi fare alle rispettive municipalità da parte di tutti i proprietari, usufruttuari o possessori a qualsiasi titolo di terreni, di case, di fabbriche di qualsiasi natura. Questo doveva essere fatto entro 50 giorni dalla pubblicazione della legge 109 nel 1798 con l'indicazione poi dei confini, della denominazione, della qualità dei terreni e anche descrivendo gli appartamenti che componevano le case. Questa disposizione fu motivata dalla volontà di esercitare una uniforme contribuzione soprattutto i beni stabili. Per quanto riguarda invece l'imposizione sui redditi personali si prevedeva l'esenzione per redditi non superiore a 600 lire e con aliquote poi a salire dall'1 al 10 per cento sui redditi superiori con la massima aliquota prevista per i redditi che superavano le 20.000 lire. In alcuni archivi parocchiali si sono trovati poi resisti definiti civili e anche militari usati per formare le liste dei coscritti con elenchi, questo a partire dal primo gennaio del 1799 che venivano poi aggiornati anno per anno, elenchi degli uomini di età compresa tra i 20 e i 60 anni. Tutte le municipalità dovevano poi attivare un registro proprio militare dove annotare i giovani del paese e i cittadini tra i 18 e i 30 anni potevano essere requisiti in caso di necessità per impiegarli nel servizio della patria con esclusione questo dei capi famiglia, dei parroci, dei funzionari pubblici e dei maestri di pubblica istruzione. Era garantito il rientro al proprio lavoro, questo al termine però della requisizione ed era prevista una pena di due mesi di carcere per chi si fosse sottratto a quest'obbligo. Un cenno ora all'istruzione. Si disse che nonostante la rivoluzione il popolo sarà sempre schiavo degli errori e dei pregiudizi e questo finché per mezzo dalla pubblica istruzione il popolo non conoscerà i suoi diritti e sentirà anche i suoi doveri. Per cui si decise di attivare prontamente le scuole primarie in tutti i comuni sede di tribunale o di giudice di pace. L'anno scolastico iniziava il 12 novembre e proseguiva sino a tutto agosto. Si doveva insegnare a leggere e a scrivere gli elementi di calcolo e i principi della morale e della costituzione. Le scuole erano organizzate in una forma di tipo militare. Una curiosità, già nel 1798 si decisero nuove festività come la festa della rigenerazione e quella della federazione. La prima si celebrava il 22 maggio in ricordo di quei benemeriti cittadini che avevano sacrificato la loro vita e anche le loro sostanze per rivendicare la sovranità del popolo dalle usurpazioni dell'estinta oligarchia. Si disse che in quest'epoca può giustamente stabilirsi il principio della nostra rigenerazione. La festa era appunto attuata in tutti i luoghi dove esisteva la municipalità. Invece la festa della federazione si celebrava al 14 giugno e questo per richiamare alla memoria dei cittadini le epoche fortunate della Repubblica e in particolare quella del 14 giugno 1797 in cui tutta la nazione Ligure, come si disse, si era riunita in una sola grande famiglia. Nel 1800 le truppe austriache scesero in Liguria, abbatterono gli alberi della libertà, il 2 giugno conquistarono Genova ma furono poi sconfitte da Napoleone nella battaglia di Marengo e la Repubblica Ligure si ricostituì dopo soli dieci giorni di interruzione. Il 27 maggio del 1803 la Liguria fu ristrutturata in sei giurisdizioni. L'anno dopo, nel 1804, Napoleone divenne imperatore dei francesi e poi ancora subito dopo re d'Italia. Nel 1805 i francesi organizzarono l'annessione della Liguria all'impero prevedendo un plebiscito e il Senato della Repubblica Genovese emise un decreto col quale si indicò nell'Unione alla Francia l'unico modo per uscire dalla critica situazione in cui ci si trovava. I cittadini Liguri, d'età superiore a vent'anni, votanti per censo, approvarono l'Unione alla Francia e col decreto del 17 Pratile, cioè del 6 giugno del 1805, fu sancita l'annessione dalla Repubblica Ligure all'impero francese. La Liguria fu divisa nei dipartimenti di Montenotte, di Genova e degli Appennini. Ma questa è un'altra storia. Un caro saluto e arrivederci al prossimo incontro. Al prossimo incontro.